In conclusione siamo in compagnia della dottoressa Silvana Campisi per l'Accademia Biomedica di Medicina Rigenerativa. Il suo intervento è stato illuminante, quasi che a un certo punto abbiamo avuto l'idea tutti quanti noi che stavamo ascoltando che fossimo di fronte ad una svolta. È così dottoressa? In un certo senso siamo di fronte a una svolta che dura da un po' di anni, che purtroppo come ho detto alla fine della mia presentazione, non viene molto conosciuto e questo è il vero motivo per cui rimaniamo ancora al passo. Non andiamo molto avanti. Lei ha puntato il dito, senza troppa polemica, però in modo corretto, contro chi si sente in qualche modo depositario della verità e quindi di fronte a certi avanzamenti della scienza e della tecnica si rigidisce. Eh sì, questo è uno dei motivi, oltre agli altri che ho detto che sono quelli economici perché ci vogliono i soldi se no non si può andare avanti. Quello dello scienziato detentore della verità, lo scienziato che sta chiuso dentro quattro mura nel suo laboratorio e noi l'abbiamo fatto pure. A un certo punto della vita, della storia della medicina bisogna che le ricerche lasciano il laboratorio e vadano in mezzo alla gente. Le cellule staminali sono state per anni dentro i laboratori, adesso sono uscite fuori, sono venute fuori da un po' di anni. O lo facciamo con l'aiuto dello scienziato che è dal di dentro, oppure lo facciamo senza perché la popolazione, le persone è quello che ci richiede. Questa si chiama medicina traslazionale, dal laboratorio all'esterno, alla medicina applicata. Le staminali lavorano per noi, quindi è un lavoro che fanno incessante, non sono mai stanche, ma facciamo un po' di chiarezza, cioè quali sono le reali, le uniche vere staminali? Ecco appunto è da stabilire tante verità, bisogna mettere a punto che le staminali non sono tutte staminali quelle che si dicono staminali. Quindi bisogna avere da fare con delle persone preparate e leali e corrette. Per cui le staminali sono quelle embrionali, non abbiamo staminali adulte. Adulte le chiamiamo cellule rigenerative. Allora noi lavoriamo con le cellule rigenerative, che fra l'altro è un uso consentito dalla legge. Perché so che lei è andata anche al Ministero, perché a un certo punto le è venuto anche il dubbio dire ma io sto continuando con la ricerca e anche con gli esperimenti, perché ne ha portato uno ad esempio con la sperimentazione, ma sto facendo bene? Cosa le hanno detto? Eh no, devo dire che il Ministero mi ha supportato dicendo di andare avanti in questi studi che stabiliscono non sono sperimentali in toto, sono le applicazioni sperimentali su alcune patologie come la sclerodermia, che poi diventano invece normali e non sono più sperimentali, sono standardizzate. Però all'inizio cominciano così. Quindi oltre alle normali applicazioni che vanno appunto dalla dermatologia alla urologia, ginecologia, ci sono delle malattie rare e soprattutto in questo caso delle malattie invalidanti come la sclerodermia di cui abbiamo parlato oggi. Mi permetto di chiederle questo. Giustamente lei ha detto che la sperimentazione è già un fatto compiuto. Adesso dobbiamo applicare i dati della sperimentazione benissimo. Come mai nell'immaginario collettivo si è iniziato dall'estetica e non da altre cose magari più importanti? No, perché è maggiore l'interesse. A parte che come abbiamo fatto dei congressi, se le stesse si ricorda sull'immagine e su qual è il mito degli ultimi anni che è quello di Peter Pan dell'eterna giovinezza, c'è poco da stupirsi se quello che più interessa è la parte estetica, ma ben venga la parte estetica se poi questo ci apre la strada verso tutto il resto delle patologie. Grazie. Grazie a te. Un'illuminanza. Grazie a te.